Quali sono appunto questi deficit cognitivi che possono instaurarsi nei pazienti con sclerosi multipla? I pazienti con sclerosi multipla, in una percentuale che va dal 40 al 70%, quindi in una percentuale molto rilevante, presentano dei disturbi principalmente di memoria, di attenzione, nelle cosiddette funzioni esecutive, cioè sostanzialmente sono più lenti nel ragionamento, fanno fatica a tenere a mente più cose contemporaneamente, hanno anche dei disturbi di memoria e questi disturbi impattano notevolmente sia sulla qualità di vita che sulla loro capacità di mantenere l'attività lavorativa, impattano sulla capacità di gestire la famiglia, evolvono nel tempo, anche se sono già presenti nelle fasi iniziali della malattia e possono progredire in maniera indipendente dalla progressione del deficit di tipo motorio. Quali sono le cause, dottoressa? Perché si instaurano questi problemi? Tutto dipende sempre dalla mielina oppure c'è qualcos'altro? Ci sono stati tantissimi studi che hanno correlato l'entità e la tipologia del deficit cognitivo con il tipo di danno a livello cerebrale, ovviamente principalmente misurato con la risonanza magnetica e sicuramente il disturbo neuropsicologico, quindi i disturbi di memoria e di attenzione correlano col carico del danno della sostanza bianca, ma soprattutto correlano con il danno della sostanza grigia sia in termini di lesioni corticali, tant'è che si è visto che quanto peggiore è la funzione cognitiva tanto maggiori sono le lesioni corticali e il loro volume totale e soprattutto con l'atrofia della sostanza grigia. Quindi tanto più progredisce l'atrofia, che spesso nella pratica clinica non viene esattamente misurata, tanto peggiori sono i disturbi cognitivi. Senti, il nostro cervello, che è una macchina meravigliosa, in questi casi mette in atto dei meccanismi di compenso. Quali sono? Allora, si è visto soprattutto studiando quella che è la funzione cerebrale con tecniche di risonanza magnetica funzionale che misura, cioè, quanto è attiva una particolare area o quante sono attive delle particolari connessioni corticali e cosa fa il cervello per compensare questo. Si è visto, ad esempio, che i soggetti che sono poco compromessi dal punto di vista cognitivo presentano rispetto ai soggetti sani una maggiore attivazione delle aree che sono deputate a quella funzione. Questo meccanismo di iperattivazione che viene ritenuto essere compensatorio progressivamente però viene meno per cui i pazienti che hanno un maggior deficit hanno una minore attivazione funzionale ed esiste un grande dibattito ultimamente proprio per cercare di capire qual è il reale significato di queste iperattivazioni o ipoattivazioni. Secondo alcuni non sempre sono favorevoli, talvolta possono essere, per così dire, maladattive, cioè rappresentare una risposta aberrante dell'encefalo. Sulla ultima domanda, ma molto importante, cosa fare in questi casi? Ci sono dei farmaci specifici? Ci sono delle attività di riabilitazione per ridurre, appunto, questo tipo di problemi? Allora, diciamo innanzitutto che quanto più si stabilizza l'attività di malattia, tanto minore la progressione del deficit cognitivo. Purtroppo il deficit cognitivo non viene mai del tutto misurato nei trial clinici che valutano l'efficacia dei farmaci, ma questo è uno sforzo comune che si sta facendo da più parti per cercare di introdurre, appunto, nelle misure di outcome dell'efficacia di un farmaco anche misure di funzionamento cognitivo. Si è visto però che gli esercizi di cosiddetti riabilitazione neuropsicologica sono estremamente efficaci e questo lo si è visto attraverso degli studi randomizzati in cui degli esercizi specifici, per esempio, che trattavano l'attenzione nei pazienti che avevano dei deficit di attenzione, degli esercizi di memoria in pazienti che avevano dei deficit di memoria, miglioravano significativamente in maniera persistente le funzioni cognitive deficitarie e anche la qualità di vita, gli scordi di depressione, quindi sicuramente questi training cognitivi funzionano. Si può contrastare, non bisogna abbattersi quindi. Infatti, infatti. Infatti.